Ciao ragazzi, ben ritornati in questo nuovo video. Oggi, per la prima volta, ci troviamo su MyCraft. Creeremo un nuovo mondo. Indovinate un po', lo chiamo MyCraft, perché sta un po' su di me. Ok, allora, MyCraft. Ok, fatto. Fine del nome e modalità sopravvivenza, difficoltà, normale. Crea. All'inizio ci mette un po', ma non vi preoccupate che ci finisce. Ci vuole un po' un pelino. Il mio è per PS4 Edition. Quindi. Perfetto. Oh, bene. Ciao mondo. Guardate, questa è la mia skin. È bellina, vero? Mi piace? Spero di sì. Guardate cosa abbiamo trovato. Ai, 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 no, le bacche, bacche. Ciao bacche, è la prima volta che li vedo. Che fortuna, ne raccolgo un po'. Quante bacche, bacche, e quante sono le bacche, belle, belle, e belle le bacche. C'è un po' un po', i cani. Chissà, una lonna. Ai. È un tavolo in osa. Ah, bacche. Non maturre. Piccole bacche. Che campo di bacche è? Se avete cose strane, ditemelo. Ok, invece di pensare solo alle bacche, pensiamo anche per noi. Ai, ai, ai. Ok. Mangiamo un po' di bacche. Gnami, che buono. La prima volta che le vedo alcune le mangio. Rompiamo. Rompiamo, rompiamo, rompiamo i legnami. Rompiamo, rompiamo i legnami. Rompiamo, rompiamo, rompiamo i legnami. Ok, belle bacchette e un po' di legno. Adesso dobbiamo continuare a rompere l'albero. Ve ho chiamato mio fratello Luca. Per farvi rivedere le bacche. Ah, loro piccoline non fanno male. Che carini. Mangiamo bacche. Se no moriamo baccati. Ok, basta con le bacche. Ok, continuiamo a raccoltare il legno. Via. Ok, continuiamo, continuiamo. Continua a raccogliere il legno. Ok, scusate se non si vede un cavolo. Ma neanche io. È alto l'albero. Ok. Abbiamo otto di legna. Continuiamo a raccoglierne ancora un po'. Metto pausa. Dopo vi faccio vedere cosa ho fatto. Ok ragazzi, ho raccolto il legno. E comunque è uscita la seconda parte del... Bah, quante bacche. Del blog al... Al WWF. Il parco WWF. Comunque continuiamo il nostro piccolo tragetto. Ah, comunque creiamo le assi. Questo è il crafting della PS4. Per chi non lo sa. 64, il numero massimo, perfetto. Au, ai, ai, aiuta. Non più andate alcune? Un po' di bacche così. Allora, raccogliamo il massimo di bacche. Raccogliamo il massimo di bacche. Sono ricco di bacche. Ok, basta bacche perché stiamo arrivando al numero massimo di bacche. Anche una. Questa. A posto. Adesso la mettiamo nell'inventario. Creiamo la crafting table. Qui creiamo stecchetti. Chest. Doppia chest. Un'altra chest. No. Si, grata. E poi armi lento. Il fondamentale piccone. La fondamentale ascia. E la fondamentale spada. Ok, così ci facilitano le cose. Ma scusate, avevate visto qualcosa? Ok, mangiamo le bacchine. Che belline. Ah! Ah! Robato. Carmi. Ok, continuiamo. Oh, una bacche. Bacca, bacca, bacca. Ahia, ahia. Andiamo a cercare un po' di animali. Anche se siamo ricchi di bacche. Ci serve un letto per le... Un letto. Quando parlo, arriva tutto. Ok, mangia, bacca. Ma quante sono? Chi ha mai crescere per PS? Ma veramente ci so così tanto. Aiuto, devo scappare. Usciamo da sta zona. Uh, bene, bene. Oh, Cristo, troppe bacche. Non ne posso più. Vabbè, raccogliamo le cani al zucchero. Altre bacche. E basta. Ok, sono belle, buone, fantastiche, succose. Ma basta. Allora, vado a cercare un po' di animali. E ci vediamo. Ok, ragazzi. Voi non vedete niente. Neanch'io. Allora, è notte. Come potete vedere. E non ho trovato niente. Solamente un po' di cani al zucchero del carbone e un'altra pecora. Ma manca una di lana. Per riuscirci. Comunque, ci vediamo quando è giorno. Ragazzi, è giorno. Posto. Usciamo da qua. Felina notte trascorsa. Cos'è un po' strano. Però devo trovare una pecora. Vado alla ricerca. Ciao. Ok, ragazzi. Ho creato degli utensili in pietra. E adesso andiamo a cercare... La maledetta pellecola. Sì, è una mucchietta che fa sempre buono. Allora, in quella zona, secondo me, ci sono... Beh, che cacchi di problemi ha quella mucca? Oddio. Ho trovato una mucca drogata. Incredibile. Credo che siamo... Eh ma pure questa, impazzita. Eh, anche là. Oh, ma che c'avete? Oggi. Eh, mucche. Anche se non mi servite, ma mi serve una bella pecorella. L'avete vista? No? Vabbè, continuo a cercare. Comunque voi venite nel mio stomaco. Sì, avvi... Oh, sì. Oh, sì. Non so se l'avete vista. Ma l'ho trovata. All'attacco. Addosso a quelle mucche pecora. Morta. Finalmente posso farmi il letto. Finalmente. Per quanto... Madonna mia. Faccio un taglio e li massacro tutto. Ok, ho sterminato tutta la zona. Guardate. Non c'è più niente. Io dico di stabilirci qua. Forse la casetta posso pure farla qui. Dai, mi piace come nel posticino. Adesso facciamo una sorta di questa cosa. Ho fatto una fornace. Tint table. Sistemiamo tutto l'inventario. Adesso ci vediamo tra poco. Ok, ho sistemato tutto. Qui abbiamo tutto qui. Ho messo qua. Una mini farm di Buck. Così ne abbiamo sempre in scorta. E niente. Ragazzi. Questa è la mia skin. Ditemi se volete fare il gioco online. Con i miei amici. Magari ve li presento. Oppure anche Luca. Ho due joystick. Li chiedo di portarli. Se volete che succeda questo, io vi consiglio di iscrivervi, commentare se volete e rispondere a questo indovinello, l'indovinello del giorno. Allora, fatevi pensare e dopo vi lo dico. Ehm, ancora so. Ah, ecco, l'ho trovato. Alzo di giorno non si illumina. Ma al buio si illumina. Che cos'è? Sono molte cose. Quindi io, ragazzi, sono già crescendo. No, con quale velocità? Ok, ragazzi. Cosa devo fare? Io vi dico. Io ho un'idea. Quindi dite. Concludiamo il video qua. Ci vediamo alla prossima rada. Ciao!